26esima edizione di Sposi, ma non solo. Il salone delle piccole e grandi cerimonie che si sta svolgendo a Salerno, presso il polo fieristico centro agroalimentare, rappresenta dal 1995 l'occasione imperdibile per tutti gli operatori intenzionati ad arricchire il proprio portafoglio di clienti e potenziare la propria immagine aziendale, attraverso il rapporto diretto con i clienti e il confronto con le altre aziende. Tante le aziende che hanno aderito all'edizione 2019 di Sposi, ma non solo, provenienti da tutta la regione di Campania, tra le quali anche My Rent Service, azienda erpina, leader nel noleggio di autovetture e veicoli commerciali e noleggio di auto da cerimonia. E proprio presso lo stand di My Rent Wedding Exclusive Cars abbiamo incontrato Enzo Gallo, componente staff Jolly Group, che ci ha parlato delle novità della 26esima edizione di Sposi, ma non solo. La mission è quella di far conoscere alle coppie di futuri sposi e non solo tutto ciò che riguarda l'organizzazione della cerimonia piccola e grande, quindi sposi ma non solo, quindi principalmente wedding ma anche piccole cerimonie come comunioni e battesimi e mettere in contatto le aziende che si occupano degli allestimenti delle cerimonie con gli utenti. Quanti sono gli espositori che partecipano a questa edizione? Abbiamo circa 80 aziende che vengono da tutta la campagna, dal Napoletano, dall'area bassa Vesuviana, dall'Irpini, ovviamente Salerno e provincia e ci sono varie categorie commerciali in maniera tale che i visitatori possano realmente avere dei riferimenti per organizzare la propria cerimonia, quindi parliamo di fotografi, atelier di abitura sposa, auto da cerimonia e anche qualche categoria commerciale parallela come ad esempio ristrutturazioni e quant'altro. Grazie Grazie